Oggi è verissimo tutto quello che volete sapere sulla grande festa annuale del Principato di Monaco che ha riportato per la prima volta in pubblico i membri della famiglia Grimaldi dopo i recenti scandali. Dunque Stefani senza l'ex marito Ducre, Carolina ancora senza capelli con il capo coperto da un foulard e poi parleremo di tante altre notizie e pettegolezzi di questa festa che è una davvero delle feste più mondane dell'anno. Vi aspetto alle 18 su canale 5 con verissimo. Vuoi? Svizzero? No, Novi. Chi ha detto che il buon cioccolato è solo Svizzero? Novi, alta qualità europea, prezzo europeo. Heineken presenta le città musicali. Un nuovo modo per conoscere l'anima di una città. Per vederla una videocassetta che ti porta nel cuore delle città. Per trovarla una guida che ti propone itinerare curiosità e indirizzi inediti. Per ascoltarla un cd musicale che ti fa sentire l'anima più vera delle città. C'è Pile, c'è musica, c'è Heineken. Le città musicali. In edicola il primo numero su New York. Ieri la zianna ha visto mia mamma che faceva gli involtini con sottilette Kraft e ha detto esagerata, perché una marca è come un'altra? Invece no, perché con sottilette Kraft che hanno il 100% di formaggio alimenta al Baviera è sicuro che viene tutto bene. Dopo la zia si è mangiata 5 involtini. Mia mamma sa sempre di più, anche di lei. Sottilette è solo Kraft. È Bluel, il servizio di piatti in vetro blu decorato. Te lo regala sottilette Kraft. Ma il sapone? No, è Topexan contro la tendenza ai brufoli. Ma tu non ne hai? Certo, uso Topexan tutti i giorni. Guarda, i brufoli sono causati da impurità ai batteri. Topexan pulisce più a fondo del sapone e test clinici dimostrano che è due volte più efficace sui batteri. Niente male, eh? Toh, fatti bello. Topexan batte il sapone nel combattere la tendenza ai brufoli. Ma tu cosa mangi a merenda? Pane e gazzella? No, Kinder Fett al Latte. È il latte che fa la differenza. Kinder Fett al Latte è preparata con tanto latte fresco pastorizzato, più di qualsiasi altra merendina. Poi c'è una goccia di miele, morbido pan di spagna. Kinder Fett al Latte ha il gusto velo del latte fresco. Mamma, c'è Kinder Fett al Latte in frigo? Mi sa che dobbiamo comprare un po' di più, eh? Kinder Fett al Latte. È il latte che fa la differenza. Se le va, potrei offrirle un caffè. Magari un po' speciale, visto che è il suo compleanno. Volentieri. Ma pazza qualità oro? Magari. Bello, caldo, profumato? Sì. Eccolo là. Grazie. Una bella sorpresa. Un caffè di classe? Non so proprio come sdebitarmi. Malepare, Pietro. A proposito, quelle nuvolette. Ma tu che ne pensi di questa operazione? Ma ti dico, questa operazione Fiat bravo e brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una brava si vogliono soltanto... 4 milioni e 840 mila lire di anticipo e 330 mila lire al mese per 11 rate. E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla. Così si fa. Così si sta tranquilli. E' davvero così? E' esattamente così. Proprio così. Il gran biscotto. Un'opera d'arte. C'è l'arte di mangiare bene. Fatto solo con un po' lo sei. Con rispetto parlando. De quei bei grossi ostrega. Vero suino italiano. Ma attenti ai falsi, eh. Rovagnati. Io li ho fatti. Io li ho firmati. Occio alla firma, eh. In diretta da Manchester per la quinta giornata di qualificazione e quarti di finale della Champions League la Juventus affronta il Manchester, al Lord Trafford Stadium in quella che si presenta come la gara più difficile del girone di ritorno. Manchester United e Juventus. Stasera alle 20.20 su Canale 5. Now. Now.